Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale oggi un nuovissimo video svuota la spesa in teoria ne dovrei caricare un altro prima di questo però siccome oggi c'era una promo e voglio voglio segnalarla ecco a chi può vedere magari il mio video oggi e andare domani all'Eurospin e allora quindi cerco di registrare ed editare il video subito in sera da stesso sono le 10 meno 10 e io ho finito adesso di fare tutto cerco quindi di fare il video veloce di caricarlo editarlo così lo potete vedere online allora sono stata all'Eurospin appunto e avevo fatto una bella lista sinceramente con un bel menù settimanale molto ampio però molte delle cose che avevo segnato non le ho trovate e quindi non ho fatto niente in sostituzione ma vi faccio vedere ecco quello che ho preso allora come surgelati ho preso questi burger merluzze spinaci che erano appunto in offerta sono non si trovano forse sempre o forse ultimamente sì comunque sono merluzze spinaci tonno, olive e pomodorini e poi c'è anche quello lì al salmone devo dire che sono tutti e tre buonissimi questo forse è il più buono poi c'è quello al salmone e questo il meno buono solo che voglio provare l'ho ripreso perché voglio provarlo alla griglia perché fatto nel forno sinceramente non mi è piaciuto tantissimo quindi voglio dare un'altra possibilità questi sono di Atena sono due hamburger per ogni pacco sono 160 grammi quindi 80 grammi di hamburger ed erano in offerta a 1,59 euro io in genere li mangio appunto con un contorno di spinaci con verdure in generale insalata mista comunque per un secondo veloce sono veramente comunque ottimi alla fine è pesce è sfizioso perché sono accompagnati appunto qua da spinaci stesso qui da queste olive e pomodorini quindi buonissimi c'è praticamente due minuti di video e io vi sto parlando degli hamburger e basta comunque poi volevo prendere c'era la settimana del giro d'italia il volantino del giro d'italia e c'era il branzino c'erano dei filetti di orata forse comunque non li ho trovati purtroppo non ho trovato niente e quindi niente ho deciso di non prendere nient'altro come pesce ho preso solo questi quindi come surgelati naturalmente sono già in freezer perché mi occupavano spazio e quindi ecco vedete solo le scatole vuote poi per quanto riguarda frutta e verdura mi sono superata qui c'è un giochino di Thomas mi sono superata perché non ho preso la solita lattuga e i soliti pomodorini perché ne avevo già in frigo e quindi ho voluto prendere allora le zucchine due confezioni di zucchine queste sono quelle lì chiare io le uso spesso come contorno ho voluto prendere apposta due confezioni così che ne hanno dentro due grandi e una piccola cioè scusate qui sono due grandi e una piccola qui una grande e due piccole in modo tale che quando me le vado a bollire mi faccio una grande e una piccola una grande e una piccola e una grande e una piccola Thomas ci saluta e ci ringrazia io ho già il mio pigiamino poi ho preso i miei soliti cavoletti di Bruxelles che la volta scorsa ho detto ma c'era origine Olanda e ho detto ma certo sono di Bruxelles quindi sono olandesi scusatemi io poi nell'editing non me ne sono accorta e me ne sono accorta solo una volta che era stato pubblicato qualcuno infatti mi ha pure commentato comunque scusatemi come vedete comunque io registro i video a quest'ora della sera quindi ho già detto tutto poi ho preso questo bellissimo mazzo di broccoli che erano confezionati così da due proprio vediamo questi che origini hanno che non li ho visti viva frutta broccoletti origine Italia Puglia quindi questi sono pugliesi e poi ho preso due finocchi che non li prendevo veramente da tanto tempo forse almeno due anni comunque ho preso questi quindi solo per me la sera per un contorno veloce quindi frutta e verdura nuova oggi nel video di I love makeup Allora per quanto riguarda i prodotti da frigo invece ho preso queste tre confezioni di tramezzini che le ho presi ma le abbiamo mangiate oggi a pranzo perché sono andata appunto all'Eurospin appena finita da lavoro appena finito da lavoro ma ci dovevo ritornare quindi velocemente comunque ho preso questi tramezzini per un pranzo al volo ed era uno cotto tonno e maionese uno cotto e maionese uno gamberi salsa cocktail e verdure che ne avevo prese due confezioni ma una appunto è rimasta i miei preferiti quelli lì nel sacchettino di carta che erano in offerta oltretutto erano terminati e quindi vabbè ho preso questi buoni buoni comunque poi ho preso una confezione di piadine questa è la piadina romagnola IGP e la riminese con olio extravergine di oliva anche questa se non sbaglio era un'offerta 89 centesimi poi ho preso questi tortelli ai funghi che in genere li ho già presi ma non di questa marca che si chiama pasta aue non ve lo so dire questa è nuova questa confezione ecco io adesso così non leggo non leggo niente comunque ah eccolo qui invece Verona pastificio 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 avesani di Verona e quindi curiosa di provarli poi ho preso una confezione di arrosto di petto di pollo questo lo mettono spessissimo in offerta io almeno una confezione la prendo sempre poi ho preso 5 confezioni di latticino fresco spalmabile perché questo lo uso per tutto praticamente quindi si consuma abbastanza facilmente poi era in offerta a 59 centesimi poi in offerta ho preso le ricottine anche qui due ricottine sono due da 100 grammi a 59 centesimi queste ne mangio in genere appunto una per cena con un contorno di verdure poi della linea appunto come dicevo prima a giro tra i sapori d'italia c'era questa crescenza cremosa che sul volantino se non sbaglio non l'ho vista però poi era lì nel frigo delle offerte e quindi ho voluto provarla la sua vaschettina e boh da provare appunto poi ho preso le ultime tre confezioni di questi burrini che torno a ripetere come prezzo non convengono perché sono 100 grammi 99 centesimi però ragazze sono la vita sono già divisi io ne prendo uno che ne so quando devo fare il risotto o se una mattina ho voglia di fette biscottate con la marmellata ecco ne apro uno solo di questo e niente siccome poi sono sicura di non trovarli più li ho presi tutti e tre poi a Mario ho preso questa ciambellina che sicuramente si mangerà più tardi non lo so poi ho preso questa confezione di cordon bleu questi non mancano quasi mai nei miei suoi dalla spesa sono da mezzo chilo 4 cordon bleu prosciutto e formaggio e Mario se li fa al forno poi ho preso queste che le cerco sempre tutte le volte che vado ma non le trovo mai oggi le ho trovate sono delle scaglie di grana padano è una confezione richiudibile io queste le ho prese soprattutto per quando prendo la bresaola che stavolta non ho preso però tanto la scadenza è metà novembre e quindi comunque le useremo sono già comodissime tagliate così a scaglie quando non ho voglia di prendere il pezzo di parmigiano e di tagliarlo io e poi ho preso una confezione di mozzarella queste sono già aperte sono 4 da 125 grammi allora mi ero ripromessa di non comprare più queste mozzarella perché ultimamente non c'erano piaciute per oggi ho cercato quelle di bufala che piacciono a Mario ma non c'erano ho cercato quelle lì siciliane latte siciliano che piacciono a me ma non c'erano siccome Mario voleva la mozzarella ho preso questa devo dire l'abbiamo mangiata per cena che erano buonissime erano veramente super super buonissime non so se si è cambiato qualcosa perché ho visto la confezione che adesso è scritta così invece in genere era bianca però vi posso dire che sono buone morbide sanno di latte niente super promosse super buonissime ok per quanto invece riguarda diciamo così ne più da dispensa ho preso questo pacco di 6 buste un trist di patatine ce ne sono due classiche due tipo simil chipster e due simil fonzi le ho prese perché quando vengono ospiti per non aprire il paccone giusto così per spizzicare sono veramente comodissime mi sono trovata bene appunto qualche altro pacchettino ce l'ho sono 6 pacchetti da 30 grammi e quindi le ho presi perché sono veramente comodi poi finalmente 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 ho trovato anche da me i plum cake integrali e sono una novità le avevo viste da diverse ragazze da me non erano ancora arrivati e finalmente oggi li ho trovati fonte di fibra yogurt italiano sono appunto 6 la confezione da 6 non vedo l'ora di assaggiarli poi lo so che non si fa ne ho parlato sempre malissimo però avevo bisogno di tonno anche per cucinare e quindi ho preso questo mi sono fatta tentare dal prezzo i grandi del risparmio erano 12 lattine a 8 euro e qualcosa e quindi per cucinare va benissimo poi ho preso un misto di legumi e cereali che non ce l'avevo terminato poco prima dell'estate ma adesso comincerò di nuovo a farli quindi con la pasta una panna da cucina perché una devo avere sempre di scorta e poi tappatevi le orecchie e gli occhi ho voluto prendere a Mario questi visto che lui a pranzo è da solo a casa i fusilli e la carbonara e le penne con i funghi lasciando stare le penne le penne ai funghi Mario mi ha detto non si può guardare i fusilli la caroce è proprio vabbè se lui non se lo vorrà mangiare magari lo proverò io però erano in offerta 65 centesimi alla fine è un pasto lui arriva quanto mette la pentola cioè è pratico veloce secondo me saranno pure buoni comunque niente mi voleva uccidere praticamente poi altra novità altra sì queste erano una novità perché non le avevo mai viste altra novità è questa è la vellutata di zucca della linea delizia del sole non l'avevo mai vista infatti c'era scritto novità di questa linea abbiamo preso la pasta la zuppa di fagioli e ho visto che c'era anche il minestrone questa mi ispira tantissimo il periodo autunnale lo consente quindi appunto l'ho voluta prendere può essere che ci metterò anche qualche crostino dentro e poi c'era un totem vicino alla cassa con tutti questi sciampi e praticamente mia madre era andata ieri e mi ha preso aveva preso quello sempre di questa linea che è il spa praticamente mi aveva preso quello se non sbaglio è l'argan per i ricci e un altro era brillantezza e un altro non ricordo comunque me ne ha presi tre io oggi sono andata ed escludendo ed escludendo quei tre che mi ha preso lei ho voluto prendere questo che è purificante detox che ultimamente mi sto trovando benissimo poi ce n'era uno antiossidante e un altro antiforfora ma non mi interessavano e non li ho presi per un euro e diciannove sono 250 ml di prodotto quindi assolutamente da provare infine ho preso una confezione di calze per Mario questi li ho presi anche l'anno scorso se non sbaglio due anni fa mi sono trovata benissimo qui c'è scritto che sono tre paia più uno in omaggio comunque si sono quattro paia e le ho trovati l'ultima confezione anche per me da donna quindi quasi uguali però le mie cambiano le scritte comunque c'è scritto il numero in modo tale che anche in lavatrice ecco non li confondiamo e questi erano quattro paia tre euro e novantanove poi volevo dirvi che intanto vi faccio la panoramica generale volevo dirvi che spendendo 30 euro di spesa avevate con un euro la teglia che adesso vi faccio vedere è bella grande e poi che io a parte questa spesa non vedete due casse di acqua di quelle da due litri l'acqua ginevra una cassa di quelle da un litro e mezzo la blues quella simile sant'anna e una confezione di 18 lattine di birra quindi non vedete questo poi un'altra cosa che volevo dirvi è che c'erano un sacco un sacco di cose carine allora c'erano dei pigiami pigiami bellissimi ma la misura più grande era la XL erano chiusi ma io so di per certo che sicuramente mi andrà aderente io cioè aderente o normale comunque meglio i pigiami li voglio molto abbondanti e quindi non li ho presi c'erano sia da donna che da uomo poi c'era tutta la linea delle squadre di calcio c'erano le tute bellissime di Inter, Milan tutte le squadre ma Thomas è ancora piccolino perché la misura più piccola se non sbaglio era 4 anni poi c'erano i copripiumino lenzuola copripiumino c'è la sacca praticamente con lenzuola di sotto il piumone e il cuscino scusate sto sfasando che erano rimasti solo e soltanto della Juve poi c'erano i cuscini di Inter, Milan ma ecco non ne ho presi poi anche da uomo comunque ho visto c'era abbigliamento c'erano dei sotto di tuta c'erano dei jeans ecco ero più interessata al pigiama per me ma niente e poi ho visto un'altra cosa che c'era tutta la linea per la casa di piumini lenzuola di sotto lenzuola di sopra completi letto e oltretutto ho visto proprio poco fa che anche Elisabetta R alla Lidl ha preso qualcosa da letto siccome nello scorso video di Elisabetta lei aveva preso ad esempio i piumini da donna giubbotto il piumino tipo il 100 grammi e c'erano anche all'Eurospin mi sono accorto che fanno uscire le cose in concomitanza cioè stessa linea esce all'Eurospin stessa linea nella Lidl o per lo meno per due settimane di fila è successo questo quindi niente era una cosa che avevo notato e ve lo volevo fare sapere adesso vi prendo la taglia e ve la faccio vedere ecco la taglia è questa non entra neanche nell'inquadratura è proprio grandissima come potete leggere è 40x28x8 quindi è bella alta e poi pure è bella pesante e si è proprio bella pesante e la marca è Quantum rivestimento antiaderente rinforzato per una maggiore durata qui hai manici così e niente è veramente bella è super super capiente questa è la mia mano quindi immaginate ce ne entrano sei delle mie mani e niente ragazze quindi questo è stato il mio video spero appunto di caricarlo subito così chi fosse interessato domani in giornata può andare a prendere questa bellissima taglia con solo un euro e basta io mi mando un bacio grandissimo vi ringrazio per aver guardato il video e noi come sempre se vi va ci vediamo al prossimo video ciao